Come annunciato questa mattina, un gruppo di aziende agricole storiche dell'Oltrepò ha ufficializzato l'addio al Consorzio di Tutela, l'ente che dal 1970 disciplina e promuove la produzione del vino in questa zona. Le aziende, per ora una trentina, tutte appartenenti al distretto del vino di qualità fondato pochi anni fa, hanno inteso così mandare un segnale di rottura con un passato che non ha portato il territorio ai traguardi sperati, portando negli ultimi anni a una riduzione dei prezzi delle uve e dei terreni che ha pochi corrispettivi nelle altre zone vitivinicole italiane. La politica di questi ultimi anni che ha favorito la grande distribuzione, il vino sfuso, il vino in bottiglia di poco prezzo, ha portato a una riduzione drammatica dei prezzi delle uve che nuoce soprattutto ai piccoli viticoltori che vivono magari delle uve che producono da un vigneto. Questo fa sì che si arrivi piano piano un abbandono anche delle terre. La madre di tutte le questioni, secondo i vignaioli dissidenti, riguarda la rappresentanza dei produttori di filiera, cioè che producono dalla vigna alla bottiglia all'interno del consorzio, il cui statuto, peraltro su indicazione del Ministero, riserva più potere decisionale alle realtà che producono di più in termini di quantità. Su tutti, nel caso specifico, la cantina sociale Terre d'Oltrepo di Broni e gli imbottigliatori, ossia quelle società che non producono direttamente ma acquistano vino sfuso e immettono sul mercato, specie della grande distribuzione, ingenti quantità di bottiglie a prezzi molto concorrenziali. Insomma, due modelli produttivi diversi e per certi versi antitetici che non è semplice tenere insieme, una situazione che sta suscitando un ampio dibattito, come nel caso del Trentino Alto Adige. I produttori di filiera, di qualità, di immagine, quelli presenti sulle guide nei grandi ristoranti, devono avere la governance del consorzio e decidere. È logico che un territorio grande come l'Oltrepo non può prescindere da un mercato di vino sfuso, che è assolutamente indispensabile, non può prescindere dagli imbottigliatori esterni, però le decisioni vanno prese da noi produttori. Abbiamo dato un segnale uscendo in massa, ma siamo pronti ad entrare nell'esatto momento in cui le cose cambino. Evidentemente dall'interno non si riusciva a cambiare nulla, non vogliamo distruggere, vogliamo ricostruire. Oggi assistiamo a un segnale importante che una parte delle aziende dell'Oltrepo dà al suo consorzio, dà alla sua organizzazione. Quindi queste aziende, che tra l'altro sono anche aziende di qualità, sono aziende che tirano il territorio, sono aziende che trascinano il prodotto e che permettono anche a tutto il resto del territorio, anche ai cantieri sociali, imbottigliatori, ai venditori di sfuso, di poter prosperare, di poter vendere. Queste aziende oggi danno un segnale. Si sentono escluse dai giochi, si sentono poco considerate. Quindi sicuramente questo è un segnale importante che dovrà essere capito, ed ora se ne dovrà tenere conto e si dovrà agire per migliorare e cercare di riparare la strappola e la frattura.